Buongiorno a tutti gli amici del Tastello, siamo con Davide Cutuli, in compagnia di Davide Cutuli ad Acate per la quinta prova di campione regionale Sicilia. Davide che ha finito terzo assoluto la giornata dopo un periodo di poco allenamento perché è stato poco bene. Davide le tue considerazioni su questa gara, su come è andata, su come è stata organizzata, dici un po' tu. La gara è stata bellissima, speciali degne veramente di una bella prova, ritorno da una febbre che mi ha fermato per circa un mese, quindi oggi mi ritengo contento di questo risultato anche perché non me lo aspettavo, dato che da un mese che non giro con la moto e quindi sono contento. Infatti se è stato male non hai potuto nemmeno correre alla gara d'italiano, ci è dispiaciuto tutti quanti, anche perché diciamo che avresti avuto pane per i tuoi denti, data la linea abbastanza pietrosa. Ti rivedremo comunque quest'anno, il prossimo anno a gareggiare l'italiano perché da un po'. Sicuramente faremo ora la terza prova all'italiano e speriamo che posso riprendermi quello che ho lasciato. Quello è perfetto, esatto. Noi te lo auguriamo, noi ti facciamo ancora i complimenti perché comunque ti abbiamo visto non mollare mai anche data la stanchezza che hai provato, però sì, ci stava. Volevo salutare Domenico Ricciari che purtroppo manca questa gara per motivi brutti diciamo e gli volevo fare un grosso in bocca al lupo, di buona guarigione. Eh glielo facciamo anche noi il tastello e ci rivedremo sicuramente prestissimo e speriamo di fare una bella intervista doppia, tripla con tutti i top. Dai, ciao Domenico!